Allora, ho 25 anni, un anno fa avevo dei problemi all'eresione, una disfunzione eretile, diciamo, sono dei problemi seri, ho fatto vari tipi di trattamenti con qualche medici, ma non hanno risolto niente, mi sono informato su internet, con le recensioni e i video, poi ho visto il prof Antonini, l'ho contattato, sono arrivato da lui e mi ha saputo dire che mi risolverà il problema, infatti me l'ha risolto e sono felicissimo. Prima dell'intervento era proprio in depressione, diciamo, la qualità di mia vita è scarsa, e vivevo male con la depressione e psicologicamente non c'ero veramente, così, veramente brutta. E poi sono stato sette anni senza andare dalla mia ragazza per paura di fallimento, e quando sono arrivato dal dottore mi ha detto che ti aiuterò, infatti mi ha aiutato, che ora sto veramente meglio, sto veramente meglio di prima, sono contentissimo, sono felicissimo. Allora, dal punto di vista professionale, io dico, se la darei un voto metterò a 5 stelle, perché è molto, molto, molto professionale, io dico, l'ho sempre detto, è sempre il numero uno, e poi è una persona di cuore che è sempre veramente sa aiutarti, sa risolvere il problema, qualsiasi problema di questo settore lo so che sa risolverlo. Molto professionale, sempre che si mette al proprio agio, sempre ti chiede come sta, come va, e dopo aver risolto il problema. Poi, al lato umano, io dico, sempre, una persona veramente di cuore, che guardandoti sa che hai veramente dei problemi seri e ti mette proprio in tutta tranquillità, e poi ti aiuterà, come l'ha detto, e lo farà. Io sono molto contento, molto soddisfatto, perché mi ha aiutato, non ha aiutato, ma molto, mi ha aiutato moltissimo, e lo ringrazio veramente di cuore. Non sento proprio un corpo strano, sento proprio un pene normale, non mi accorgo neanche che c'è una protesi, sembra tutto naturale, l'eresione è tutto naturale, la sensazione, l'eoculazione, tutto come prima, prima, tutto naturale, una buona sensazione, veramente. Allora, io le direi di andare subito, di venire subito dal professore Antonini, che sa risolvere il problema di non aspettare tanto e non esitare a venire. Io le consiglio veramente, vivamente, di venire subito, perché qui soluzione c'è. Io non speravo che ci sarà una soluzione, ma arrivando da lui ho capito che veramente la soluzione ce l'ha lui. La rifarò assolutamente, la rifarò. Molto, sono veramente contento, tranquillo e felicissimo, sono felicissimo.